Venerdì 19 aprile parte dell'Irpinia si è risvegliata in biancata. La scorsa notte ha nevicato a Montevergine sull'altopiano dell'Aceno. Foto e video di laceno.net Passione Lacenio, osservatorio di Montevergine, ci consegnano immagini di paesaggi invernali a dispetto del calendario che ci ricorda che siamo invece in piena primavera. Il ritorno della neve è stato accompagnato anche da un netto calo delle temperature. Fiocchi di neve si sono depositati nella notte con un brusco abbassamento termico in provincia di Avellino fino a mille metri. All'Aceno si è avuta la seconda nevicata più copiosa di quest'anno dopo quella di gennaio, l'unica dell'inverno che ci ha lasciato un mese fa. Analoga situazione sul Monte Partegno, l'alba a Montevergine e a dir poco particolare con il santuario imbiancato. Al suolo si sono depositati due centimetri di neve e c'è da precisare che la perturbazione annunciata si è rivelata meno intensa rispetto alle previsioni su gran parte dell'Irpinia. Il paesaggio questa mattina si è presentato innevato a partire da 1100 metri, sebbene nella notte i fiocchi di neve siano scesi anche al di sotto dei mille metri, soprattutto sulla fascia dei Monti Picentini. Stando alle previsioni meteo, le basse temperature persisteranno sull'Irpinia anche nei prossimi giorni. Brutte notizie, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura.